E' venuto, si è seduto sulla parte alta della macchina e non abbiamo avvertito la polizia perché ce l'avrebbe impedito e siamo andati a fare la cosa più folle perché certo che poteva accadere qualcosa a lui, che però molti di noi avevano la sensazione di ritenere intoccabile prima che fosse ucciso. E comunque sarebbe accaduto anche a noi perché eravamo in quattro in tutto, il tecnico del suono, noi tre diciamo e lui, siamo arrivati all'incrocio di FN14, era completamente buio perché i fuochi, gli incendi stavano ormai arrivando dal centro verso la periferia. Accendiamo la luce, Kennedy si alza in piedi sulla parte posteriore del baule dell'auto, mentre noi cerchiamo di tenerlo per le caviglie perché non è proprio l'equilibrio perfetto. E comincia a parlare attraverso gli altoparlanti che noi avevamo messo davanti sulla macchina e fa un discorso molto bello che c'è nel libro di Clark dove dice vostro padre è stato ucciso come mio fratello e allora pensate che noi ci uniremo e andremo ad uccidere tutti coloro che hanno ucciso? E allora la storia ricomincerebbe tragicamente da capo, non ci serve altro sangue, ci serve altra fratellanza, ci serve il legame che non abbiamo, ci serve lo stare insieme, ci serve lo sperare che a uno di noi domani non accadrà ciò che è accaduto a mio fratello e a vostro padre. Dopo un po' ci siamo accorti che la folla intorno era immensa, c'era una grandissima folla di neri che era uscita dalle case e che lo ha preso e è stato in alto come se fosse stata una figura religiosa, fino a doverlo appoggiare alla rete di un campo da gioco, sapete quei campi da gioco dove si gioca palla canestra e quindi hanno la rete molto alta, fino ad appoggiarlo lì in modo che almeno un lato fosse al sicuro e che lui potesse continuare il discorso. E' stata una notte memorabile che dice, secondo me continua a dire, che c'è un sogno americano che nonostante tutto e persino in questa strana fase di mondializzazione, direbbero i francesi, del mondo, dell'universo nel quale ogni cosa si ripete e avviene con un'ecca sinistra da un'altra parte, di solito peggiore piuttosto che migliorata, persino in questo momento sogni di quella grandezza continuano a vivere. Grazie. Allora, ci stiamo avvicinando velocemente verso la fine, io vi chiedo ancora due flash velocissimi, abbiamo attraversato molti momenti di storia americana, siamo partiti da quel momento, mi viene in mente Dos Passos, quando diceva l'America sono due nazioni diverse, all'ultimo quella di Obama dove c'erano tante realtà che come tessere di un mosaico vanno a contribuire a un unico paese. Tra questi due estremi a lei chiedo un flash velocissimo su Jesse Jackson, perché no? Perché lui no? Cioè non era ancora pronta l'America o era leggermente sbagliato lui? A proposito dei grandi discorsi, non lo si può paragonare all'I have a dream, però il suo discorso, I know, fu un grande discorso, che ebbe un grande, però... Perché lui no? Chi? No, I know, il discorso di Jesse Jackson. Insomma, cerco di diventare senza riuscire. Allora a lei chiedo perché Jesse Jackson non è diventato presidente e a lei chiedo invece questo, mi ha colpito molto quando ha detto che il sogno americano, è americano, non sono così sicuro, ma è ovviamente sbaglio io, quindi lei nega questo senso di universalità del sogno americano in cui tutti noi ci possiamo identificare? Decidete voi chi risponde per primo e poi auguriamo la buonanotte. Uno almeno per me risponde. Beh, ma diciamo così, quel tipo di sogno io penso che sia americano, sia americano nel senso... Nella Costituzione americana hanno messo il diritto alla felicità, oltre che l'uguaglianza tra i cittadini. Nessun'altra Costituzione ha messo il diritto alla felicità, cioè il raggiungimento della felicità. Allora, io penso che quel tipo di sogno, così come lo abbiamo raccontato stasera, come ci abbiamo provato, sia una cosa proprio tipicamente americana. Sia tipicamente americana l'idea, poi molto spesso disattesa, che però, come dire, tutti ce la possono fare, tutti ci possono provare, tutti sono cittadini, che non importa una frase, uno di questi mantra che ripetono, l'ho sentito ripetere a ogni comizio, a Joe Biden, che è il vicepresidente di Obama. Non importa quante volte cade, l'importante è quanto veloce ti rimetti in piedi, ti rialzi, questa idea della seconda possibilità. Cioè ci sono una serie di cose che si sono formate, secondo me, nella storia di come si è formata l'America. D'altronde l'America è figlia di una serie di ondate migratorie, che a lungo sono ondate migratorie che si caratterizzano perché è gente che scappa da qualche cosa e cerca un luogo dove poter vivere una vita diversa, una seconda possibilità. Se pensiamo a quelli che arrivano nel 600, fuggono dalle persecuzioni religiose, fuggono dalle persecuzioni religiose e arrivano in un posto dove pensano che finalmente avranno la possibilità di ricominciare la vita potendo, come dire, professare la loro religione senza che qualcuno gli faccia la guerra o li perseguiti per questo. Quelli che scappano, gli immigrati irlandesi scappano dalla fame, scappano dalla carestia, vanno con l'idea di trovare un posto dove se faranno fatica dovranno attraversare l'America con i carri eccetera eccetera, ma troveranno una terra dove potranno ricominciare a non avere fame. Se pensiamo agli immigrati italiani sul finire dell'Ottocento e all'inizio del Novecento che passano da Ellis Island, anche lì scappano dalla fame, scappano dalla possibilità di non avere un futuro in zone d'Italia che erano profondamente arretrate. Ma anche se andiamo più vicino, chi arriva sul finire degli anni 30 e negli anni 40, gli ebrei che arrivavano dalla Germania piuttosto che dall'Italia, dalla Francia, dalla Polonia, scappavano dalle persecuzioni, scappavano prima dell'Olocausto e andavano a cercare un posto dove ricominciare una vita, dove ripartire. Allora, questa roba qui è talmente dentro che a me ha colpito sentire gente di cui non diresti mai che non ti, voglio dire, incontri americani nell'America profonda che è evidente che non hanno letto un libro, che non hanno studiato niente di questo tipo di filosofia. Ma l'idea, io posso riprovarci, posso ripartire, possiamo farcela, è un'idea veramente che hanno nel DNA, in maniera diversa. Che poi non voglio farne un discorso che quello è il meglio e allora noi siccome non abbiamo quel tipo di sogno stiamo peggio. Noi abbiamo una storia che è una stratificazione talmente secolare che per forza da una parte ha molto più peso, molta più profondità, da un'altra parte però c'è meno slancio, meno freschezza. Però io penso che quel tipo di sogno e quel tipo di atteggiamento esista lì. D'altronde, per chiudere, lo dico una cosa. A me ha colpito più di tutto, in questo senso, ancora che cosa vuol dire il sogno? Il fatto, ho visitato tanti laboratori di università americane e ho trovato sempre talmente tanta gente diversa. Ricordo questo laboratorio che c'è a un posto che si chiama Madison, nel Wisconsin. È un laboratorio che studia i meccanismi del sonno e il cervello. E in questo laboratorio c'erano 22 persone che lavoravano, che avevano fatto tutto il dottorato e stavano facendo questa ricerca insieme e di americani ce n'era uno. Col passaporto americano ce n'era uno. I fondi erano fondi federali, erano fondi americani. Gli Stati Uniti pagavano quella ricerca. Pensate come finirebbe sui giornali, quanta gente si alzerebbe a dire ma come i soldi dello Stato italiano per fare una ricerca in un'università c'è un solo italiano e gli altri 21 sono? Gli altri 21 c'erano due italiani, c'era un finlandese, c'era uno svizzero, c'erano due pakistani, c'era un indiano, c'era gente da tutto il mondo. Ma la forza in quel piccolo sogno che era quel laboratorio che sta facendo tra l'altro le scoperte interessanti sul funzionamento del cervello, del sonno, della coscienza eccetera eccetera guidato da un italiano tra l'altro che si chiama Giulio Tononi però in quel laboratorio lì che ero andato a visitare, io sono entrato in un laboratorio e ho trovato un americano soltanto, uno di passaporto americano. E allora questa è una differenza. È la differenza che lì nel momento in cui tu dici vabbè cerchiamo di fare questa roba hanno assemblato un team che gli sembrava il team migliore possibile e allora l'ingegnere informatico, gli ingegneri informatici che erano due erano un finlandese e un indiano. Allora il fatto, e questo è puramente americano, di non essere andati a cercarli per appartenenza o per area geografica, tu dove sei nato, che scuola hai fatto, che professore ti ha portato, ma sei o non sei il più bravo a fare questa roba qui? Sei bravo? Allora sei finlandese? E il fatto sta c'era un americano soltanto. Allora questo secondo me è una roba peculiare loro. No, io non penso, penso che Jesse Jackson sia stato un grande leader nero che però era perfettamente intonato al suo tempo, non era né in ritardo né in anticipo e non aveva la visione della portata di Martin Luther King. Io ricordo fra i collaboratori più stretti c'erano Jesse Jackson, Andrew Young Joshua Williams, più o meno questi erano i tre uomini più vicini a Martin Luther King. Nel mio giudizio il più straordinario era Andrew Young che infatti è diventato ambasciatore delle Nazioni Unite con il rango di ministro e ha avuto un ruolo molto importante nel rappresentare per la prima volta la constituency, l'opinione nera dentro il governo perché il presidente Carter ha dato il rango di ministro per la prima volta all'ambasciatore delle Nazioni Unite. Era un fatto simbolico come quello che Obama ha fatto in questi giorni nell'avere due donne nelle posizioni chiave, cioè alle Nazioni Unite e come National Security Advisor, cioè il consigliere per la sicurezza nazionale che ricordate era la posizione a cui ha ambito di più e che ha gestito con più forza Henry Kissinger per capire l'importanza di questa posizione, oggi ce l'ha una signora di nome Rice che viene guardata con paura e sospetto dai repubblicani perché effettivamente come ambasciatore alle Nazioni Unite è stata straordinariamente brava e un'altra donna è diventata ambasciatore alle Nazioni Unite. Questi segnali che dà Obama sulle donne Carter li stava dando sui neri, però non si poteva, come dire, Jesse Jackson si era assegnato un compito più da sindacalista che da politico, si potrebbe dire da sindacalista per il Movimento Nero. Siamo stati molto amici, esiste una pagina del New York Times in cui io appaio tra lui e Andrew Young il giorno in cui Andrew Young si è dimesso da ambasciatore alle Nazioni Unite per una questione che già riguardava il problema di Israele e che dichiarazioni fare sul rapporto fra arabi e israeliani. E in quella situazione io mi ricordo Jesse Jackson rappresentava moltissimo del sentimento popolare dei neri americani, ma non il sogno di livello a cui invece partecipava un uomo come Andrew Young. A conclusione di quello che ha detto il direttore io vorrei dire questo, noi non abbiamo mai nominato ma il personaggio che in realtà fa della società americana qualcosa di diverso da tutto ciò che noi ci immaginiamo compresa la Francia e l'Inghilterra è l'opinione pubblica. L'opinione pubblica è una giuria che non smette mai di funzionare e che non è divisa secondo partiti. Nel momento in cui Obama, e io credo che se la caverà benissimo perché ha già dato delle risposte giuste, ma nel momento in cui Obama viene accusato di mettere le mani troppo nella vita privata americana con la sorveglianza delle fonti di informazione e di comunicazione sia in rete che telefoniche in quel momento la maggior parte degli americani sul momento, prima ancora di sapere per il fatto che è stata toccata la privacy, si schiera contro il presidente senza che si divida fra repubblicani e democratici, perché l'opinione pubblica americana ha questa grande forza. Se perdi la faccia con l'opinione pubblica hai perso la faccia, ricordo la vicenda di Gary Hart, il candidato probabilmente vincente alle elezioni americane che poi ha perso Dukakis nel suo giro, era destine che i democratici non le avrebbero vinte, ma Gary Hart è stato sorpreso su una barca mentre era candidato e mentre dichiarava che la sua posizione familiare era perfetta, è stato sorpreso su una barca di nome Monkey Business, che è un'espressione che vuol dire veramente... Ha anche esagerato, aveva anche detto sfido voi giornalisti a trovarmi... Con una bella ragazza bionda seduta sulle ginocchia. In quel momento Gary Hart ha perso la faccia e l'ha persa di fronte a tutta l'opinione pubblica, compresa l'opinione pubblica democratica, a cui era molto simpatico perché era un uomo di battute straordinarie e di una rara spiritosaggine che non è tipica delle... Come in Italia, no? Cioè se succedesse una casaggine in Italia... Quindi l'opinione pubblica è un fatto molto importante che segna molto... Uno perde subito la faccia.